I. AC Milan VSAS Roma 23 marzo, 2012 Selkensie Selzer Mkensie. Autor, di, punto, Selzer, trattino, Mkensie. L mio suggerimento, vincete per il Milano. Il primo due è la ventinovesimo giro della serie italiana a cui ha è una delle due grandi bombette contemporaneamente questo fine settimana. I leader di tavola l'AC Milan e questo correnti incontrano sei assi messi la Roma l'uno sull'altro nello stadio San Siro. Entrambi i gruppi sono in una forma molto buona in modo che poter attendere un gioco molto interessante e aggressivo esattamente come nella prima gamba quando a C-Mailand nel romano lo stadio olimpico ha celebrato una vittoria 3-2.2. L'inizio, 24 marzo, 2012, ore 18 e Questo tempo è la situazione gioca ancora a loro per il milanese più favorevolmente davanti a ventilatori del suo proprio la e all'eliminazione dalla Coppa Italiana dell'Archivali Juventus Turin a cui essi devono un buon risultato i loro ventilatori sono restati. Le spese dell'allenatore Allegri hanno celebrato una vittoria 2-2.1 cioè nella parte regolare del gioco quattro giorni fa nell'incontro di ritorno al Torino. Questo era un risultato identico come nella prima gamba nello stadio San Siro in modo che essi entrano nella dilazione. Gli ospiti sono stati più un po' più fortunati e dopo il colpo di Vucini che si hanno spostato in in il grande finale. L'allenatore Allegri potrebbe essere piuttosto soddisfatto delle prestazioni dei suoi ragazzi, in particolare poiché egli si è accumulato con un composto lista stata alcuni giocatori come Aquilani, Villaggio di Mare e Gattus di nuovo si è ristabilito prima in cui hanno mentre egli è stato costretto a causa di una leggera ferita nella metà a sostituire il suo giocatore, Ibrahimovic migliore. Ibrahimovic sarà adatto per questo duello e Maxi Lopez procederà probabilmente oltre a esso abbastanza davanti. Lopez era il segnapunti di obiettivo del secondo colpito contro Juventus. Ambrosini e Nocerino ritorneranno nel gruppo dopo l'interruzione breve mentre Chiuso Antonin sarà sostituito dall'esperta Bonera. I giocatori difensivi si riducono e nesta, i giocatori di centrocampo van sbagliano. Botten, Flamin, Strasser e Merkel così come gli ha rivisti Patu, Cassano e Robino saranno cancellati. Lista attesa il Milano, Abbiati, Bonera, Mexes, Thiago Silva, Mesba, Ambrosini, Nocerino, Montari, Emanuelson, Ibrahimovic, Maxi Lopez. Sulla parte opposta che i Romani hanno utilizzato poiché AC Milan ha giocato e contro la FC Genova da essere più precisa nella Serie A un giorno e essi hanno celebrato una vittoria 1-2 punti 0 e hanno quindi gestito dopo molto tempo di credere due vittorie di freccia principali in conseguenza. Davanti a quello le spese dell'allenatore hanno famoso Enrique Ausuart Sieg con il risultato identico alla Parna. Così uno può dichiarare che essi giocano infine in un modo disciplinato nella difesa mentre l'attacco non è mai possibile, poiché essi hanno giocatori terrificanti in questo segmento alla disposizione. Affatto non giocate a Capitano Zotti nel duello contro la Genova ma egli sarà adatto per questa bombetta esattamente come il giocatore di centrocampo Pjanic. Tre ha ferito giocatori e essere più precisi difendono se i giocatori Yuan, Burdisso e Cassetta saranno cancellati. AC a Rome si accumulerà quindi quasi con l'equipaggio più forte nel sabato sera. I Romani daranno con certezza il suo migliore per restituire un gioco molto buono contro i leader di principale e tavola correnti della Serie A per dare qualcosa in questo modo indietro per la sconfitta domestica nella prima gamba. Lì sta attesa la Roma, Stechelenburg, Tadei, Chiaer, Seccare Rastrelliera, Los Angel, Gago, De Rossi, Pjanic, Totti, Osvaldo, Borini. Benché attendere una grande resistenza dei Romani in questa riunione che troviamo, quello il milanese con il sostegno dei loro ventilatori con la stringa di vittorie continuato diventa, particolarmente da allora essi hanno bisogno dei punti urgentemente nei finali. Grazie. 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 Grazie.